Io ho scoperto questi gruppi attraverso YouTube, ho visto una conferenza che Marco aveva fatto con un altro filosofo, Galimberti, attraverso un amico e da lì sono risalito ai gruppi. Ho deciso di venire qua per vedere effettivamente come erano questi gruppi, anzi è stato molto bello perché comunque sono stato accolto da un buon profumo, c'era tanta gente, movimento e quindi è stato molto piacevole. Devo dire che appunto venendo qui al primo giorno, al primo incontro del primo anno mi sono trovato molto bene, devo ammettere che vedere tutto questo fermento sarà probabilmente una motivazione per proseguire questi incontri fisici. Mi aspetto che questo percorso mi aiuti ad uscire da un sacco di problemi che attualmente mi porto dentro e mi faccia anche comprendere meglio quella che è la percezione del mondo intorno a me, cosa che una persona chiusa come me probabilmente non riesce ancora a sentire nella maniera giusta. Sono arrivata qui tramite mia madre perché sono anni che segue Marco Guzzi e mi ha sempre attratto il suo messaggio e quindi da questo corso ero alla ricerca di un corso che comprendesse sia il corpo che lo spirito e quindi ho ritrovato tutto questo in questo corso e quindi spero, insomma, sono convinta che sia quello giusto. Allora, sono qua oggi perché Marco Guzzi lo seguo già da un paio d'anni, forse anche di più, e devo dire che il suo modo di parlare ha una forza che non ho trovato in giro in altri maestri, perché io lo definisco maestro. Quello che mi aspetto sì, quello che mi aspetto è proprio un percorso spirituale, quasi iniziatico, vero, in cui finalmente non ci sarà più, come dire, quel chiedersi un vero perché ma non lasciare inaridita l'anima perché nessuno gli dà la risposta e dice no, guarda, è così, è un mistero di qua e di là. No, invece la gente fa domande serie e vuole risposte serie e qua ho la certezza, perché ho visto i video, ho la certezza che si facciano domande serie e si diano risposte serie. Allora, tutto dono Francesco, sono qui perché ho conosciuto questo corso tramite partecipanti e me ne sono state descritte quali possono essere le potenzialità, la possibilità di lavorare su se stessi in un percorso di crescita. Grazie. Fondamentalmente cerco dei contenuti, essenzialmente un luogo, un luogo nel quale possa sia ricevere che dare dei contenuti a livello, prima di tutto umano e poi a livello di conoscenza della vita. Allora, io sono interessata al percorso di Marco Guzzi perché mi piace la filosofia e quindi l'ho scoperto tramite un canale filosofico e perché sono qui, perché quando ho sentito le parole di Marco mi hanno risuonato molto e sono un bisogno che tutti quanti abbiamo espresso in termini molto realistici ma anche concreti e quindi è una risposta che cerco. Grazie.